Se noi continuiamo a perdere pezzi importanti delle istituzioni che decidono di ritirarsi a vita privata perché non vogliono mettere a repentaglio la propria incolumità, le cose più care che hanno, che sono i familiari e il proprio lavoro, è evidente che consegniamo un terreno facile a quelle mafie che hanno voglia di infiltrarsi all'interno degli enti locali, perché loro non aggrediscono gli amministratori, cercano altre forme di consenso e lo strumento della corruzione è il principale, ma quando i cittadini non votano e perdono fiducia nelle istituzioni loro hanno campo libero per continuare a fare affare. Con il 74% dei casi di minacce e intimidazioni registrate nel 2014, il Sud Italia è l'area geografica dove i soggetti che ricoprono un incarico pubblico rischiano di più. In particolare sono la Sicilia e la provincia di Napoli a detenere il primato di amministratori locali sotto tiro. I dati emergono dal rapporto annuale di avviso pubblico, la rete antimafia che unisce in Italia oltre 300 enti locali e sono allarmanti se si considera anche che il fenomeno è cresciuto del 3% rispetto al 2013. Nel complesso monumentale di Santa Maria la Nova l'argomento è stato oggetto di discussione con magistrati, sindaci e amministratori sotto tiro di diverse città italiane. Noi chiediamo due cose. Da un punto di vista legislativo è il fatto che anche la commissione che è stata istituita in Parlamento produca alla fine un aggravante che tuteli, maggiormente protegga chi decide di aggredire e intimidire gli amministratori e le istituzioni locali perché bisogna porre un freno su un fatto che colpisce un amministratore al giorno. Il secondo aspetto è che chiediamo di avere strumenti adeguati e ci impegniamo come rete di associazioni ad avviare un percorso di formazione e di accompagnamento, in particolare nel centro-sud dove c'è bisogno di sostenere gli amministratori che scelgono di stare dalla parte della legalità. Troppo spesso i sindaci sono soli, statisticamente non si sanno manco casi di sindaci poi minacciati che hanno abbandonato, che hanno subito violenza strisciante o sono stati messi in una condizione di isolamento. Ecco perché bisogna fare rete, però devo dire che al sud ci sono anche tante esperienze di amministratori che con coraggio hanno retto, non hanno mollato e oggi sono da esempio anche per amministratori del Nord che sono in questo anche ancora non preparati al 100% ad affrontare l'infiltrazione delle mafie all'interno delle istituzioni e delle amministrazioni locali. La presentazione del rapporto sui amministratori sotto tiro chiude la sesta edizione della festa nazionale di avviso pubblico a Napoli. Due giorni di incontri e dibattiti sul tema dell'antimafia nel nuovo millennio, promossi in collaborazione con il Comune e l'Anci per confrontarsi e dare visibilità alle buone prassi amministrative messe in atto contro le mafie e la corruzione. Purtroppo nel nostro paese stiamo assistendo ad un fenomeno per cui il sistema di corruzione in alcuni contesti diventa talmente complesso e radicato che è esso stesso che poi si trasforma in sistema mafioso. Occorre mettere in campo delle soluzioni di risposta a 360 gradi, in parte migliorando ulteriormente le norme, in parte auspicando che soprattutto ci sia un rinnovamento della classe dirigente che venga selezionata sulla base di principi e di valori molto diversi purtroppo da quelli che in alcuni contesti si sono verificati problematici.